E' in diretta? Siamo in diretta. Sì, sì. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao testetti. Come state? Siamo in live? Marta. Guarda cosa mi ha insegnato Tenerife. Hai visto Marty? No. No, come cazzo ti chiami? No, scusami. Ragazzi, eccoci qua, eccoci qua ragazzi. E' una giornata molto triste. Valentina non si è presentata. Sono banato da Twitch. Ho preso la multa ieri. Allora, facciamo un piccolo host tour. Facciamo un piccolo host tour, ragazzi. Facciamo un piccolo host tour. Questa è la porta d'ingresso. Guarda che bella la porta d'ingresso. Poi questa è l'altra porta d'ingresso. Mi chiamo. Mi chiamo. Mi chiamo. Mi chiamo. Stai qui là. Vale. È la son peta? No. È una peta di piccolo. Cosa è? Spero che vuoi fare l'iss tempo? Spero che vuoi fare l'iss tempo. Spero che vuoi fare l'assù. Questa vuoi fare? Parca puttana bro Aspetta aspetta Barbecue Eh vina Barbecue Barbecue Oh è qui a venire? Parca puttana Ah 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 ici Ah ici ragazzi continuiamo con l'hustur questa è la cucina ragazzi guardate che bella la cucina guarda tu apri e qua dentro c'è questo ragazzi ci siamo guarda c'è pure il tomate tomare no 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 cosa è questa? aspetta aspetta vale che puttana si deve ripetare un galè andiamo in marchio a farlo chi? si deve ripetare un galè si deve ripetare un galè si deve ripetare un galè ma chiamando valentina cos'è qui? che sta avvenendo qua non è qui? no sapete come siamo questo? sapete come siamo? no no marco io lo porto con me a lui questo è un marco andiamo facciamo vedere tutta la stanza questa poi è la sala ecco questa basta eh? ma tu l'hai visto marco? chi? marco ma che hai visto merco cazzo? no ho visto marco comunque questa poi è figa tada l'hai dato tantissima stime 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 mi hai capito che fosse momento giusto di investire allora mi hai investito sul partimano il giusto questa casa è perfetta sono riuscito a puntare pure a spullare vai sei pronto? vai punto stronzo ragazzi stanno dormendo ragazzi stanno dormendo ragazzi stasera in mezzo alle due così così l'abbraccio cominciamo cos'è qua? vieni qua non ho mai ragazzi stiamo già a fare questo marco pronto? va bene va bene il barco è un buon tiro ma c'è l'amice vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ma vieni qua ma non si incazza se casa carta niente non si fa, non si fa non farlo mai scusa 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 non farlo mai swt siamo amici eh siamo amici sta d'alcol siamo amici siamo amici siamo amici non ti fai nooo nooo capo, che c***o fai nooo salutate pr ho fatto malissimo falca tra i gaga nel tuo braccio bro quanti, quanti speck tagli 8.002 siamo fallito 8.002 voi lo conoscete? no 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 lo conoscete Marco no non conoscevano Marco e non vale? ho tratto di non scherzare più su questa roba ma coglione ho pagato 3k di vacanza e non è venuta neanche Valentino il suo main content in più è stato bannato quindi 0 euro parello rosso ti butta in piscina ti butta in piscina Valentino cosa è per te? Valentino è per te cosa sta facendo? è morto no non posso riprendere bro rosso rosso posso riprendere? rosso rosso è un prank rosso bro tiragli qualcosa che cazzo tira una allora bro oh Marco dai Matteo mi chiamo Marco scusate sto bene ragazzi ho tolena norma ho tolena norma ho tolena norma Simo aiuto Simo arrivo arrivo eh bro guardalo guardalo aiuto oh bro tutto a posto tutto a posto tra me che non mi chiede aiuto oh rosso di merda lo devi sui no robo non robo non robo non robo non robo non robo porco di Simo no cameraman chi è l'ultimo te che scivoli eh come? farla vedere farla vedere chi? far vedere Valentina Valentina non ci è Valentina Valentina no così fa bene quindi fa bene ok Valentina ma basta in seconda no 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 oh 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 non scherzare non scherzare spiderman revolution 4 è questo? è questo? no apriamo subito non subito mi rientro in casa non fatemi la sbagliere oh passami anche l'altra scarpa no 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 rosso di merda rosso di qua rosso no no aiuto 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 siamo al sicuro occupato? droghe io tutto qui dietro ma ancora così sei conciato? stai facendo la pipì? io vado ma si è tutto bagnato no no siamo a qui non si avvicinare ok ti sei bagnato? no no non si è bagnato va bene è difficile ma scrivete la parola di chi voi due fuori di casa che questa casa la pagate io porca puttana io ho pagato tutto questo questo benessere che ti stai godendo in questo momento l'ho pagato io tu sei qua seduta e io sto soffrendo ho pagato e non ho lavoro sono un crociato in questo momento è la vita non è la vita questa questa non è la vita chi è salita? a casa? marco? è fuori non arrivo con noi? sei bagnato sul divano? non hai bagnato? frate no ma ti spiego non vedi come dei bastardi andare a quella discoteca a vedere il cazzo ma io ve lo giuro ragazzi oggi oggi becco una spagnola oggi becco se stasera becco domani se ci potete fa freddo ma si mettono lì? non l'ho messo bene forse? fa un freddo comunque qua raga o non sembra eh? però fa freddo purtroppo guarda se usciamo fuori ci sono addirittura vi dico anche quanti fut cattroia qua ce ne sono almeno aspetta 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 fermo 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 devo prendere il satellite 26 andiamo a solitare Valerio un attimo mi sputo in bocca e lo riprendo oh ma non in piscina guardato bro vabbè poi la piscina pulisce redenzione i peccati no merca 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 e che vale? io non ce la pentola più la posta mio fratello ragazzo ragazzo no però si sa che non si riescava tu parli io non voglio scaldare cosa? come si è accolgato? so come so chi sta? sì perché sei in camera mia? mi fa il mio attenzione ma fa il mio ma fa il mio oh 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 è la tua posto passano? non so che sono i canzelli? non so che sono i canzelli? non so che sono i canzelli? no non è parecchio che gli riesciò i peli del cazzo è un botto male guarda è quasi trepo comunque guarda è quasi trepo qua freddissimo fuori se vero fuori con me però faceva freddissimo e aveva messo il giubbottino ma hai fatto i barbi? no di camilla lo ammetto sincero comunque era certo che mi chiedeva ti finisci una vacanza con questo attivo per queste 5 ore? non vale dire banno o valentina? parca puttana puttana beh posso dirti sinceramente è arrivato il momento è l'insano momento ragazzi non ti buttare giù lo faccio lo faccio non l'ho fatto ragazzi per voi se mi sarebbe da me ecco ma c'era bene il cazzo di esiste con un po' non l'ho fatto non l'ho fatto ma sono il giubbottino fa freddissimo se tu da qui a qui c'è il balzo delico qua ci sono 25 gradi e c'è 2 proprio c'è di Milano ma freddo freddo proprio freddissimo io non ho il giubbotto ci sono 40 gradi no guarda io esco no no ti lo giuro è troppo freddo ma andiamo a ballare stasera frizza ma quanto ne ho dormito? quanto ne ho dormito? mezzo ora io io lo so è stato tutto il pomeriggio ubriaco ma dai non è vero ragazzi tutto il pomeriggio quanto cazzo sbiascita no ragazzi ho i video però ho i video quindi non di che stavanzate lo vedranno ma diciamo di quella cosa diciamo di quella cosa diciamo di quella cosa quando? eh? quando? eh? non ho vinta di nulla adesso complimenti bravi ragazzo di torre il cazzo sempre si dice a Milano eh? figa svegliesi eh però sapete giù c'è il barbecue ok? però portate in mano pure barbecue chi? infatti giù e dopo se ne sei veramente se lo fa carne ci sono il tio è ancora ubriaco ma davvero? ragazzi io vi saluto è stato un piacere per stare con voi mi sono andato bene da quando mi sono andato via ci diamo? ciao ragazzi